Una grande festa arcobaleno, finalmente i colori dei temi della pace, dell'ambiente e dei diritti per creare finalmente una vera e propria alleanza tra i verdi, le forze della sinistra, le realtà dei movimenti e dei cittadini, ma con accento i contenuti, le grandi esigenze del cambiamento. Non quindi una vecchia tradizione per cui si fanno nuovi partiti, sempre partitoni, ma migliorare la condizione e il funzionamento delle forze politiche esistenti, ma metterle in rete con associazioni, movimenti, cittadini e al centro il tema della riconversione ecologica della società italiana. Questo è il nostro obiettivo e dobbiamo riuscirci. Ora i verdi lavorano perché la costituente ecologista civica arcobaleno del prossimo aprile diventi un'altra tappa per una grandissima capacità di rafforzare le stanze ambientali sia nella sinistra dell'arcobaleno, sia nel centro-sinistra, ma soprattutto in Italia e in Europa.